Obiettivo scuole sicure. È stato questo il tema del convegno sull'edilizia scolastica con grande partecipazione nel comune di Scoppito che ha fatto il resoconto del lavoro fatto dall'amministrazione sull'edilizia. Un nuovo asilo nido è una realtà e sarà già pronto tra due mesi. Sono ripartite poi le procedure per l'affidamento della nuova scuola centralizzata dopo il blocco per il nuovo codice degli appalti. L'obiettivo è dare ai bambini di Scoppito tutte le scuole con un indice di vulnerabilità maggiore di 1 entro 36 mesi. Il punto più importante del programma è la realizzazione della nuova scuola centralizzata. Abbiamo ottenuto un finanziamento nel 2016 e stiamo ancora nella fase della preparazione delle gare a causa del nuovo codice degli appalti che ha di fatto paralizzato i piccoli comuni. Comunque abbiamo già concluso la gara per la progettazione e contiamo entro l'anno di affidare i lavori. Quanto è importante continuare l'attività amministrativa perché non si fermino queste procedure? Io direi che è fondamentale perché questo è un progetto che nasce con questa amministrazione e che ha ricevuto in passato anche critiche sotto certi aspetti infondate. Non c'è identità di vedute nel territorio su questa opera almeno da parte di chi è all'opposizione ma c'è una sostanziale approvazione da parte dei cittadini, dei genitori e dei bambini quindi questo ci basta.